Stop agli sbarchi di migliaia di disperati che non hanno un presente, un passato e un futuro. Questo qualcuno va rispedito a casa a calci nel sedere, non c'è più spazio per una sola persona da queste parti. A 11 anni si è partito da solo, io avrei avuto molta paura a partire da solo a 11 anni. Il tuo sorriso ci fa capire che hai vissuto delle cose molto brutte ma preferisci non ricordarle. Andiamo! 2, 2, 3, 4 Mio Gio è un calciatore, è un calciatore. Si è un calciatore, è un calciatore. È un calciatore, è un calciatore, è un calciatore. Io ho mangiato anche la scimmia. Anche la scimmia? Si, la scimmia è buonissima. Ma questa carne è di cos'è? Non è che è di scimmia. Buona maniera. Ma qui è dove abiti tu proprio, è il mio paese. E poi perché hai lasciato la Libia? Io non vorrei lasciare la Libia solo perché ho scoperto la guerra. E come fai io? Questa da muovere un po' la terra sotto. Qui si rinfresca. Lasciate liberi. Fioretti. Senza fiore, senza il mondo. Il bronzo. Il pronone dell'interno. L'interno. È un calciatore e il colore.